Buongiorno a tutte amiche, buongiorno a tutti amici di Rossini TV, sabato 12 novembre siamo qui in studio con il presidente del consiglio comunale Marco Perugini. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Benvenuto quindi ancora con noi dopo qualche mese dal nostro primo incontro nella prima edizione di WePesaro TV, come sapete andiamo in onda ogni due settimane e riprendiamo anche tanti argomenti affrontati con gli amministratori del comune di Pesaro anche nello scorso anno. Però oggi con Marco Perugini abbiamo un'opportunità, abbiamo un'occasione perché? Perché siamo stati tutti coinvolti dall'evento di tre giorni fa che ci ha visto tremare nel vero senso della parola in mattinata, mercoledì scorso alle 7.07, c'è stata un'emergenza per tanti punti di vista che è stata proprio vissuta da tutti noi quel giorno, le scuole chiuse, tanti problemi edifici da verificare nella loro effettivamente tenuta al terremoto. Però Marco Perugini oggi è qui da noi e ci dà anche l'occasione per saperne di più su come comportarsi in queste situazioni perché in realtà il comune di Pesaro propone nel suo sito dei servizi molto importanti. Sì, abbiamo passato e stiamo passando momenti di tensione, di paura, ansia, del tutto condivisibili, fanno parte di noi. Questi sono eventi così imprevedibili e così forti che ci vittano di fronte insomma a un'impossibilità spesso di capire come comportarci. Però abbiamo tante informazioni che sono quelle note che erano in una zona come la nostra sono già conosciute di come ripararsi e quando ripararsi, quando uscire di casa e uscire di casa nel momento in cui è finita la scossa dopo essersi riparati all'interno dell'abitazione lo abbiamo scritto e viene scritto in tutti i piani di protezione civile. Pesaro si è dotata ormai da anni di piani di protezione civile aggiornati in caso di sisma, in caso di alluvione, in caso di neve e questi piani sono pubblicati nel sito del comune di Pesaro. Nei giorni scorsi mentre facevamo un po' le riunioni per fare il punto della situazione ho chiesto all'assessore Belloni, l'assessore della protezione civile, al nostro ufficio stampa di ricordare e promuovere insomma questi piani di protezione civile con messaggi un po' più efficaci perché i piani chiaramente sono piani importanti che tutti possono consultare sul sito però ci sono messaggi velocemente che possiamo far passare. Intanto abbiamo pubblicato sui nostri social via telegram a chi è scritto al canale telegram del comune di Pesaro le schede in cui vengono indicate per ogni quartiere le zone di attesa, sono le zone in cui in caso di sciame o scossa non c'è pericolo di crolli, insomma si sta distante dai pericoli, quindi sono zone aperte in ogni quartiere individuate per consentire a coloro che si allontanano dalle abitazioni di stare al sicuro. Ecco quindi è una cosa interessantissima direi che il consiglio che do in primo luogo a me stesso ma a tutti quanti quello di andare nella pagina del comune nel sito del comune di Pesaro individuare la pagina dove andare a trovare tutte queste informazioni perché chiaramente essere informati e consapevoli aiuta poi ad affrontare meglio questi momenti che come ha detto Marco Perugini creano ansia un pochino in tutti noi. Esatto, sì è un momento difficile però essere più consapevoli e sapere cosa bisogna fare in momenti di emergenza è la cosa migliore in questo momento e soprattutto mantenere la calma. Esatto, mantenere la calma e comunque rendersi conto che le cose si possono effettivamente affrontare. Marco Perugini l'abbiamo detto è il presidente del consiglio comunale di Pesaro, è una carica interessante e importante perché poi gli fa vedere le cose da diversi punti di vista e da tutti gli effetti è un amministratore che però per certi versi deve anche gestire determinate situazioni e lui è giovane, lo vedete vicino a me, è una persona comunque giovane ed è molto 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 incentrato anche sulle politiche giovanili perché chiaramente gli piace anche poter dare strada, poter aprire percorsi per i giovani e uno dei percorsi più interessanti che Marco Perugini ha aperto è stato quello del presentare il comune ai giovani e alle scuole. Quindi si è verificato nel corso degli ultimi mesi dell'ultimo anno scolastico questo bellissimo evento che è stato anche ripreso recentemente dove i giovani hanno potuto frequentare il comune. Sì, in verità è iniziato la progettazione durante il covid, durante il lockdown dove non potevamo effettivamente incontrare nessuno, quindi questo mi ha permesso di progettare insieme ai miei uffici delle forme di partecipazione. Spesso capitava che scuole elementari, scuole medie, scuole superiori chiedessero di visitare la sala del consiglio comunale, il comune di Pesaro, ma questo veniva affrontato in maniera molto passiva. Così ho chiesto di organizzare una cosa diversa, più partecipata, più immersiva e abbiamo realizzato delle grafiche, delle grafiche molto carine, molto interessanti a disposizione dei bambini dell'elementare e delle medie e abbiamo strutturato un progetto che abbiamo quindi inviato a tutte le scuole e ogni anno le scuole aderiscono a Ti presento il comune. Ti presento il comune è una mattinata nella sala del consiglio comunale dove spieghiamo grazie a queste grafiche, a questi supporti grafici, creativi, come funziona il comune di Pesaro, quali sono i processi decisionali, quali sono gli organi di governo e soprattutto fanno una simulazione, quindi si divertono a fare il sindaco, il presidente del consiglio, gli assessori, i consiglieri, fanno votazioni, fanno interventi ed è una cosa molto interessante in quanto immersiva, toccano con mano effettivamente ciò che succede in qualsiasi processo decisionale, in qualsiasi decisione della nostra città dopo aver capito come funziona la macchina amministrativa. La cosa divertente è che ognuno di essi lasciamo un kit da gioco dei bambini dell'elementare e delle medie, quindi nello scorso anno scolastico 2022, da marzo a giugno abbiamo incontrato 558 studenti e ognuno di questi ha ricevuto un kit con un tabellone da gioco con le pedine del consigliere, del cittadino, dell'assessore, del sindaco, tabellone da gioco che corrisponde alla sala del consiglio comunale, invece per i ragazzi delle superiori facciamo la stessa cosa con terminologie e riferimenti normativi diversi, sempre con la simulazione, ma diamo l'opportunità a chi lo volesse di fare il PCTO che è l'ex alternanza scuola lavoro, quindi quello che hanno simulato quella mattina lo potranno vivere e toccare dal vero nelle varie realtà consigliari, quindi presso la presidenza del consiglio fanno un'alternanza scuola lavoro partecipando all'ufficio di presidenza, alle commissioni consigliari, al consiglio comunale e questo in una settimana, dieci giorni riescono effettivamente a toccare con mano quello che hanno fatto. Quest'anno la notizia è che ad ora sono iscritti a questo nuovo progetto di quest'anno 1080 studenti e studentesse che io incontro personalmente tutti. Senti Marco, ma quindi hai dato questo kit ai bambini che sono tornati a casa e uno di questi bambini si sarà magari ritrovato il kit del presidente del consiglio comunale. La pedina. La pedina, quindi c'hai già un possibile successore. Eh, però dai, sicuramente sì, sicuramente sì. No, è davvero divertente. Poi le grafiche non corrispondono realmente a noi, perché per esempio il pupino che mi rappresenta è molto più magro, ha una bella frangetta. No, no, è una cosa molto carina e molto divertente. Invito tutti coloro che ci stanno vedendo, ascoltando, se avessero figli, insomma amici, nipoti ad interessarsi a questa cosa, a chiedere all'insegnante di poter aderire, quindi sperando di trovare posto, perché sono già 1080 gli iscritti, sono più di due classi alla volta. Pensate voi quindi quanto interessa ed è anche molto bello il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, perché già sono ragazzi in un'età diversa, un pochino più grandi, che veramente cominciano ad entrare nei meccanismi e probabilmente magari provengono dall'assemblea ed istituto, già da quel primo passo che li fa avvicinare veramente verso la politica. Sì, questa è una cosa molto interessante, il confronto e la sensibilità che ho io, in quanto sono stato rappresentante istituto, presidente della consulta, per me è molto importante, ci credo molto nel ruolo attivo di ognuno di noi e soprattutto in quell'età e abbiamo voluto per questo motivo attivare il forum dei giovani. Il forum dei giovani è un progetto a quale tengo tantissimo, che mi è stato chiesto da tante associazioni locali, da tanti partiti giovanili politici, come i giovani democratici, che mi hanno chiesto di portarlo avanti. Io a livello istituzionale ho affidato questo progetto alla Commissione Politiche Giovanili, la Commissione Consigliare Competente, a cui ho chiesto di redigere un regolamento per l'istituzione di un forum dei giovani. Dopo qualche mese di lavoro, a settembre, abbiamo approvato il forum dei giovani del Comune di Pesaro. Sarà un organismo propositivo e consultivo e ne potranno far parte tutta una serie di realtà giovanili in maniera del tutto semplice, perché non è necessario essere eletti, non è un consiglio, non è un organismo lettivo, come invece accade in alcune parti del nostro Paese, in alcune regioni. Basta accreditarsi, far parte di aderire ai requisiti che noi abbiamo indicato, quindi essere un giovane tra i 16 e i 29 anni rappresentante di un'associazione giovanile, essere un giovane tra i 16 e i 29 anni, chiaramente rappresentante di ogni istituto della consulta provinciale studentesca, essere un giovane tra i 16 e i 29 anni di un ente del terzo settore che porta avanti attività per e con i giovani, oppure un giovane tra i 16 e i 29 anni che rappresenta una realtà informale, perché non tutti i giovani si costituiscono o registrano le realtà, le associazioni con cui portano avanti. Pensiamo ai Friday for Future o tante altre realtà molto interessanti che portano avanti con determinazione le loro convinzioni, le loro idee, ma non sono registrati e costituiti in associazione. Però anche questi potranno essere rappresentati come gruppi informali. E mi pare che c'è un termine, no? Mi pare per questa adesione. Sì, la novità rispetto ad altri forum di giovani, altri organismi come questo, è che diamo la possibilità anche ai singoli di partecipare, cioè anche una singola persona che ha piacere di avvicinarsi un po' alla vita cittadina, avvicinandosi a tutte queste realtà che tu hai elencato poco fa, ne faranno parte addirittura anche giovani rappresentanti dell'associazione sindacale di categoria. Quindi un giovane arriva lì e si trova obiettivamente la possibilità di aderire e conoscere tante realtà della nostra città oltre che essere a contatto con l'amministrazione. Quindi un giovane o una giovane singolarmente potrà partecipare come uditore a questo organismo che è propositivo e consultivo. Dal 15 novembre al 31 dicembre di ogni anno c'è una finestra per accreditarsi e questo organismo sarà in funzione già dai primi di gennaio, se tutto va bene. Adesso facciamo questo primo step di accreditamento, il primo di gennaio io lo convocherò per la prima volta come Presidente del Consiglio Comunale, si eleggerà un coordinatore tra coloro che comporranno il forum dei giovani e poi inizierà il lavoro, quindi potranno fare proposte, potranno dotarsi a livello organizzativo di ciò che vogliono perché sono completamente e saranno completamente autonomi e la stessa amministrazione potrà proporre attività e sottoporre al forum dei giovani questioni che li riguardano. Quindi da quello che hai detto chiaramente è una battuta, capodanno subito, saranno coinvolti immediatamente dal primo gennaio, stiano pronti questi ragazzi, questi giovani che vogliono accreditarsi, ma poi c'è una cosa che mi fa riflettere su quello che hai detto, giovani dai 16 ai 29 anni, quindi è un arco abbastanza, è una finestra abbastanza ampia, con grandi differenze perché ovviamente un ragazzo di 16 anni e 17 è diverso da un giovane uomo di 27 e 28 anni, ma credo che il valore sia proprio questo, perché in realtà sono tutti predisposti al futuro, predisposti al domani, ognuno con determinate caratteristiche, non è ancora giovane e ognuno potrà portare davvero qualcosa di suo. Sì, e questo è infatti un po' l'obiettivo che abbiamo voluto costituire, non tanto l'obiettivo istituzionale di un consiglio propositivo e consultivo, di un forum in questo caso, però ho la possibilità che ognuno di questi componenti possa scambiare esperienze, possa scambiare, possa informarsi, possa avere la possibilità di sapere come funziona il mondo del lavoro, se sono un rappresentante istituto di 18 anni o un ragazzo under 29, una ragazza under 29 che è rappresentante di categoria, piuttosto che un amministratore under 29 con cui confrontarmi, quindi questo scambio che potrà avvenire all'interno di questo forum sarà letteralmente la chiave di volta, ci permetterà di davvero coinvolgere le persone, davvero avvicinarle, avvicinare soprattutto i giovani alla vita politica. Una volta questo ruolo lo avevano i partiti politici, sono stati tanti cambiamenti, anche io ho avuto la fortuna o forse la sfortuna di non fare questo percorso all'interno dei partiti, ma una volta questa attività anche di scuola politica, di coinvolgimento l'avevano i partiti. Oggi questa si è un po' persa e credo che anche nel mio ruolo un po' di responsabilità io le debba avere e portare avanti questa attività le sento davvero mie. Sì, anche perché l'hai detto noi partiti politici, ok, tutto bene, ma forse è quasi meglio così. Tu sei una figura istituzionale super partes, comunque sia, interpreti un ruolo che è super partes, quindi è bello che questo ruolo, che questo si manifesti poi concretamente con iniziative come queste che sono super partes, dove tutti hanno la possibilità. E pensate, come ha detto Marco, che bello che un ragazzo magari di 17 anni incontra un giovane di 28 che già ha fatto una certa carriera e vede che quindi è possibile. Che quindi è alla portata, ma non in tempi biblici come tante volte si pensa in Italia, ma magari in tempi anche più stretti. E poi un'altra iniziativa che tu hai portata avanti con successo e che anche questa che secondo me è davvero illuminante, è quella del conoscere per amministrare. Ma qui siamo rivolti a tutti, quindi è uno step ancora oltre, perché magari ci potrebbe essere anche qui qualche giovanissimo che vuole partecipare e magari incontra uno della mia età interessato comunque a conoscere di più del comune. Sì, anche questo ne avevamo parlato l'ultima volta che ci eravamo visti, uno dei progetti che abbiamo messo in cantiere, sempre durante il Covid, non potevamo fare niente, quindi l'unica cosa che voleva fare è progettare. Avete progettato? Avete progettato, no, abbiamo fatto i consigli con l'attività istituzionale, ma l'attività che avevo in mente da fare, insomma, l'abbiamo dovuto mettere in campo dopo. Quindi è partito anche questo, a marzo del 2022 è partito Conoscere per amministrare, è un progetto, un'iniziativa che anche qui ho voluto in maniera molto forte perché vuole coinvolgere tutti coloro che vogliono vivere una cittadinanza attiva, chissà anche coloro che vorranno candidarsi alle prossime amministrative, vogliono conoscere un po' i processi democratici e i processi decisionali del comune di Pesaro, perché non solo i bambini non conoscono come funzionano gli enti locali o il comune di Pesaro, anche i grandi, e quindi da una parte con il progetto Ti presento il comune, spero che i bambini lo spieghino a casa, dall'altra organizzo il Conoscere per amministrare che permette insomma con un percorso un po' più lungo, quindi sei moduli che è partito dalla storia di Pesaro, è passato anche qui per gli organi di governo incontrando i rapporti con gli altri enti locali, enti nazionali, con l'Unione Europea, con autorevoli docenti anche dell'Università di Urbino, con i nostri dirigenti del comune di Pesaro. Completeremo questo percorso a dicembre dopo aver affrontato tutti questi temi, quindi cos'è una delibera, cos'è il consiglio comunale, come funziona, quali sono i servizi che deve erogare il comune di Pesaro, come vengono erogati, invitando anche i nostri dirigenti, si completerà tutto a dicembre con la tecnica politica, adesso stiamo lavorando sui ultimi due incontri nel programma, ma questo permetterà e ha permesso ad oltre 90 persone che si sono iscritte fino ad ora, sia in presenza che in videoconferenza, di seguire e vivere una cittadinanza più attiva e consapevole. Molto molto interessante Marco, abbiamo detto, prima ho fatto la battuta appunto, avete progettato durante il periodo del Covid, ma avrai letto ultimamente che è capitata la disavventura a Ligabue di ritrovarsi positivo a Parigi, subito prima che dovesse fare un concerto, è stato costretto a passare giorni dentro la camera dell'albergo, perché ovviamente era in quarantena, praticamente ha buttato giù una miriade di canzoni, quindi esiste anche il lato della medaglia, tra virgolette, positivo di tutto quello che di negativo è successo con la pandemia e magari questa è stata anche la possibilità in certi momenti di potersi davvero dedicare a progettare, a pensare, a pensare a qualcosa di migliore o qualcosa di nuovo. Sono completamente d'accordo, anche rispetto al ruolo di noi amministratori, noi politici, è facile valutarci quando le cose vanno tutte bene, invece è molto più interessante capire quando le cose non vanno bene o quando i problemi sono complicati o quando colpiscono le persone in maniera così forte, come ci comportiamo, quindi aguzzare l'ingegno e anche un po' di fantasia, oltre all'empatia che noi ci dobbiamo mettere ogni volta, è la cosa più necessaria in questi momenti, quindi le cose che stiamo vivendo, i momenti difficili che stiamo vivendo, dobbiamo viverli anche come un'opportunità per costruire una vita migliore, più dinamica, più flessibile e soprattutto con la possibilità di risolvere i problemi. Per chiudere, volevo tornare un attimo sul tuo ruolo super partes, perché mi piace molto questo concetto, in quanto tu hai, venendo chiaramente da un percorso, da un cammino, a un certo punto ti sei trovato a dover interpretare un ruolo che rispettasse tutto quello che avviene nell'ambito del Consiglio Comunale, quindi credo che anche questo sia un elemento che distingue, un elemento che distingue perché essere sopra alle parti è molto importante per far sì che tutto funzioni. Una domanda proprio così, adesso abbiamo avuto un risultato delle elezioni politiche abbastanza evidente, sono cambiate un pochino le cose dentro il Consiglio Comunale secondo te o no? O comunque bene o male la realtà di un Consiglio ben precisamente delineato è diversa rispetto all'esterno dove magari succedono tante cose nuove? Allora, è chiaro che il nostro Consiglio Comunale è congelato e fotografato quello che è accaduto nel 2019 a Pesaro ed è molto chiaro altrettanto che le dinamiche locali sono molto diverse dalle dinamiche nazionali, anche se subiscono influenze vicendevolmente, quindi la politica nazionale può influenzare la politica consigliare del Comune di Pesaro e la politica consigliare raramente potrebbe influenzare anche la politica nazionale. In questo momento io vi devo dire che ho dei consiglieri che rappresento e che gestisco se vogliamo nella mia attività democratica perché fino ad ora abbiamo parlato di tutti i miei progetti ma io di lavoro principalmente gestisco il Consiglio Comunale tutti i processi decisionali e faccio in modo che le prerogative del consigliere non vengono mai a meno e il Consiglio Comunale è formato da persone davvero leali, appassionate e come ho detto l'altra volta quando ci siamo lasciati è bene valorizzare, è bene ricordare che 32 persone che siedono in Consiglio Comunale oggi che svolgono un'attività che è poco più che volontariato debba essere rispettate e io sono molto orgoglioso di questi consiglieri comunali, la dialettica a volte è un po' più aspra a volte è un po' meno aspra e chiaramente questo è il bello del gioco, è il divertimento però quello che spiego anche ai ragazzi che capiscono che i processi democratici e le grandi decisioni si fanno rispettando tutti e quindi qualsiasi sia la posizione di un consigliere comunale all'interno di una discussione in aula è rispettata e deve essere rispettata, io sono chiamato a fare quello devo dire che la mia fatica in questo non è tanta perché ho delle bravissime persone che siedono in Consiglio Comunale che vanno rispettate e vanno supportate nel loro lavoro di amministratori Bene Marco hai utilizzato anche qui una parola fondamentale, è democrazia questo è il cuore della democrazia, teniamocela davvero stretta perché è bellissimo che noi quasi non ce ne rendiamo conto perché per noi la democrazia è come l'aria che respiriamo ma sappiamo benissimo come in tutto il mondo in tantissime occasioni non sia così leggevo delle statistiche per le quali circa il 40% del mondo è occupato da nazioni dove esiste un regime quindi teniamoci molto stretta questa democrazia e grazie anche a te e a chi come te svolge il suo ruolo in maniera davvero encomiabile nel senso che l'hai detto tu stesso io sono il presidente dei 32 e quindi per me ognuno dei 32 ha il suo ruolo e deve essere rispettato nella sua opinione Marco Perugini sempre un grande piacere ospitarti nei nostri studi Grazie, grazie davvero, buona giornata a tutti, buon weekend Ti ringraziamo ancora, ringraziamo anche voi che ci avete seguito ma secondo me ne valsa davvero la pena Buon weekend a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti